Ritornano le giornate FAI per le scuole dal 21 al 26 novembre, un'esperienza di educazione per scoprire l'ambiente e il patrimonio culturale italiano in cui gli apprendisti ciceroni, alunni appositamente formati dai docenti, accompagneranno i propri coetanei nelle visite proposte. Anche in Capitanata le classi regolarmente iscritte al FAI potranno accedere a questo modo così particolare di conoscere il proprio territorio. A Foggia il liceo Lanza Perugini propone un'ampia scelta includendo ad esempio le chiese barocche del centro storico Piazza 20 Settembre e il complesso scolastico Pascoli Santa Chiara. A Sansevero invece i ragazzi del liceo Rispolitonti diventeranno guide per le chiese di San Lorenzo e dei Morti, oltre che per Palazzo Celestini, sede del comune. Infine a Lucera le mete delle classi in visita dal liceo Bonghi-Rosmini saranno la chiesa di San Benedetto e lo storico Circolo Unione, mentre per la sezione di Ascoli Satriano ci sarà una visita al parco archeologico dei Dauni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.